il video che vi abbiamo appena mostrato è stato girato sabato sera qui nell'area parco della torraccia in via dei frassini dove alcuni residenti hanno messo in fuga un gruppo di giovanissimi circa una ventina che dalle abitazioni appunto di questi residenti erano stati avvistati mentre si stavano rendendo protagonisti di alcuni episodi di vandalismo in pratica gli adolescenti hanno divelto tre panchine e contestualmente hanno forzato l'apertura di questa casetta di legno normalmente adibita a ripostiglio per attrezzature dedicate alla cura del verde all'interno della casetta i giovanissimi hanno poi infilato le panchine appena sradicate una bravata giovanile sconfinata in un atto di vandalismo per la cosa pubblica che ha mandato su tutte le fure alcuni condomini in particolare una donna e un uomo che hanno assistito allo svilupparsi degli eventi e armati di cellulare e intimidazioni hanno messo in fuga i ragazzi come immortalato dal video condomini che hanno riferito anche di aver allertato i carabinieri ma la concomitanza di gran parte del personale dell'arma alle semifinali di coppa italia di basket alla vitri frigo arena non avrebbe reso il servizio celere e insomma continuiamo ad occuparci sempre più spesso di giovani fuori controllo e di episodi gratuiti e ingiustificati episodi di vandalismo che ad esempio erano avvenuti anche nel vicino parco di vismara nel vicino parco cittadino dove il comune ha deciso di installare delle videocamere di sorveglianze speriamo però che l'educazione diventi sempre il primo deterrente a evitare questi episodi episodi che come sempre vi invitiamo a denunciare anche a noi di rossini tv al numero di whatsapp dedicato alle segnalazioni 370-366-7210